Troppo forte. Che l'atmosfera! Pulvio! Antonello, buon venerdì! Che bella atmosfera! 100 puntate di già! Pensa, pensa come vola il tempo! Senti, il venerdì noi pizza, no? Sì, il venerdì ci divertiamo! Bravissima! Per il weekend facciamo una pizza che è replicabile in giornata a casa, perché sai che le pizze spesso dobbiamo partire il giorno prima per impastare, eccetera. Ma, giocando, utilizzando le farine giuste, noi riusciamo a fare una pizza digeribile, gustosa, impastata al mattino e cotta per la cena e via. Che cosa facciamo? Utilizziamo il farro. Il farro in due versioni. Il farro bianco, quindi una farina di farro setacciata tipo 2, 800 grammi, e 200 grammi di farina di farro integrale, per dare un sapore e aiutare anche l'assorbimento dell'acqua. 680 ml di acqua, 8 grammi di lievito fresco di birra, 22 grammi di sale, e 30 ml di olio extravergine di oliva, che è facoltativo, ma a me piace, perché dà aiuto anche all'estensibilità della pasta, e utilizzeremo la semola di grano duro, semplicemente poi per stendere la nostra pizza. Va bene, procuratevi questi ingredienti, perché tra poco faremo la pizza del weekend. Bene, io vado qui, ciao. Mi raccomandita. Grazie Luca. Grazie Luca. Vado dal mio Fulvio. Uh, ho perso anche il microfono col croissant. Eccoci, va bene, l'emozione. Allora, pizza tonda di farro. Allora, una pizza semplice da fare a casa in giornata. Utilizziamo il farro proprio perché è una farina con una bassa quantità di glutine e che ci aiuta a fare le lievitazioni dirette, senza dover fare per forza le lievitazioni lunghe. Utilizziamo 800 grammi di farina di farro bianco, quindi una farina di farro tipo 2, e 200 grammi di farro integrale, proprio per dare sapore e gusto. Mettiamo 8 grammi di lievito fresco di birra, ci sarà una lievitazione totale di 8 ore, e quindi questi sono i quantitativi giusti per questa tipologia di mix di farine. Andiamo a mettere l'acqua, che sono 680 grammi d'acqua totale. Il farro si impasta molto velocemente perché non avendo appunto tanta quantità di glutine riesce a, diciamo, raggiungere la consistenza abbastanza velocemente. Non abbiamo bisogno di stimolarlo troppo e quindi è molto facile anche da impastare a casa senza troppe, diciamo, capacità, se ci mettiamo anche se siamo un po' nei primi passi dell'arte appunto della pizza e del pane. È comunque un impasto che ha abbastanza quantità di acqua, adesso aggiungo il sale, e che quindi va gestito in una maniera giusta, particolare. Adesso ti faccio vedere. Il sale sono 22 grammi e infine aggiungiamo l'olio extravergine di oliva che sono 30 ml. In questo caso ci aiuta proprio a dare sicuramente sapore. In Italia siamo pieni di oli incredibili. E poi ci aiuta un po', come spiegava Luca poco fa, a lubrificare questa maglia glutinica e quindi nella stesura della pizza l'olio, in questo caso la pizza di casa, va utilizzato. Ci sono naturalmente tante pizze dove l'olio naturalmente non si mette. Allora, la lievitazione è... La prima lievitazione dura tre ore, scusami, sei ore. Però guarda, ti faccio vedere due passaggi. Dopo tre ore, questo è l'impasto che ci viene. Naturalmente possiamo usare anche una ciotola più grande, però sicuramente raddoppierà molto di volume. Quindi la prima lievitazione dopo tre ore lo mettiamo sul tavolo in questa maniera e effettuiamo quelle che si chiamano pieghe di rinforzo. Semplicemente piegando su se stesso l'impasto in questo modo... Comunque ci sono tante affinità tra la panificazione e la pasticceria. Assolutamente sì. Anche di movimenti, di... Assolutamente. Vedi, qui abbiamo un impasto che rimetteremo nella nostra ciotola e dovrà lievitare ancora altre tre ore. Quindi la prima lievitazione è dura. Quindi tre, poi lo rimpastiamo, altre tre. Sì, più che rimpastarlo diamo proprio queste pieghe. Vedi che non l'ho sgonfiato, ma a questo punto il nostro impasto, anche perché il farro va molto veloce, nel senso che non è fatto per fare lievitazioni troppo lunghe, ma è importante, diciamo, gestirlo, ok? In questo modo andiamo a creare un filone e andiamo a creare delle palline. Io in questo caso faccio una pizza rotonda, proprio che ci ricorda la casa. Questo è il tarocco. Il famoso tarocco, vedi, eh? Il rumore. Io lo facevo... Cioè, pensavo anch'io a questo in realtà. Eh sì, ma adesso anch'io. Era un po' qualche giorno che mi era venuto in mente che potesse essere. Ecco, un impasto abbastanza morbido lo andiamo proprio a ripiegare su se stesso in questa maniera. Ce lo accompagniamo dentro, chiudiamo la pasta dentro e la aggiustiamo con le mani. A questo punto andiamo a far lievitare le nostre palline per altre due ore, ok? In questo caso la lievitazione totale dura otto ore, quindi se impastiamo a mezzogiorno del sabato... Alla sera possiamo mangiare la pizza. Ecco, io metto sempre una teglia sopra, in questo caso, in modo che a casa riusciamo a farlo, a ricreare lo stesso concetto per non far... Una teglia sopra l'altra, vedete? Per non far fare la crosta. E a questo punto andiamo a stendere la nostra pizza, che è una pizza proprio casalinga. Quindi possiamo, lo stesso impasto possiamo anche utilizzarlo per una pizza in teglia, se vogliamo, una teglia casalinga. In questo caso facciamo una pizza rotonda. Come facciamo? Mettiamo la semola di grano d'oro, che è quella che ci aiuta di più a, diciamo, a staccare l'impasto. A questo punto mettiamo un po' di farina e andiamo a accompagnarci dai quattro lati, in questo caso, la stacchiamo leggermente e la giriamo in questa maniera. La rotondiamo leggermente, mettiamo, siccome è un impasto molto morbido, ci aiutiamo proprio con la farina, ci rigiriamo il nostro impasto e andiamo con le mani, in questa maniera qua, a stendere la nostra pizza. Quindi sono quattro pizze tonde queste. Sì, ne vengono di più, sì, sì, sì. E ne dobbiamo cuocere una per volta. Il nostro cornicione possiamo farlo a piacimento, nel senso che... A chi piace il bordo alto, lo tiene un po' alto. L'importante è stenderla e cercare, anche se lo vogliamo un po' più fine, vedi, non andarlo a toccare. Ecco, possiamo, ci sono veramente modalità. Vedi che questo impasto però è un impasto molto morbido. A questo punto, se abbiamo la nostra pala, ormai le vendono, la palla e la pietra rifrattaria di casa, andiamo a sfarinarla leggermente e andiamo a passare la pizza, in questa maniera, sulla nostra pala. Se non abbiamo la pala, nessun problema, utilizziamo la teglia. Questo passaggio lo facciamo con la teglia. Andiamo a mettere la passata di pomodoro, proprio col cucchiaio, come facciamo a casa. La andiamo a... cospargere. Anche qua, piacimento, c'è chi mette più pomodoro, chi mette più mozzarella. Leggermente possiamo andare anche leggermente sui bordi, perché i bordi... Sennò rimangono sempre poverini infelici, invece... Sì, ma poi, la leggera passata di pomodoro, soprattutto nella cottura di casa, che è un po' più lunga, aiuta a rendere un po' più umida il bordo e aiuta a farlo alzare un po' di più. A questo punto, mozzarella. La mozzarella si può mettere o subito o alla fine. in questo caso, se la mettiamo subito, il fior di latte di casa, è importante che lo facciamo scolare. Quindi io l'ho stracciata 4-5 ore prima e l'ho fatta scolare. Se uno volesse mettere la bufala, ad esempio, bisogna scolarla un po'. La bufala la metti alla fine, secondo me. Alla fine. Proprio quando sfongi la pizza... Perché sennò si spattascia troppo. Esatto, esatto. Perché proprio è anche molto buona non farla cuocere troppo. Però l'importante è che togliamo l'acqua alla mozzarella che ha all'interno. Oppure utilizziamo le trecce, che sono quelle un po' più asciutte. Quindi a questo punto andiamo in forno. La cottura è, diciamo, inizia con la parte più bassa. Quindi la parte più bassa a 250 gradi sempre. Eccoci qua. Per alcuni minuti, tipo 4-5 minuti, e poi terminiamo la cottura gli ultimi minuti, quindi 11 minuti, possiamo fare 6-5, 6 nella parte più bassa e 5 nella parte più alta, in modo da avere poi la nostra pizza cotta e riuscire a casa ad avere... Per me la pizza è questa. Questa potrebbe essere già una margherita. È già una margherita. Poi tu ci vuoi mettere su. Però io ci metto il prosciutto cotto rigorosamente dopo cottura. Ah, certo. Eccolo qua. Perché quando è buono, eccolo qua. Oppure anche in cottura, ma diventa poi un crostino. Due funghettini. Due funghettini. Poi ognuno piace, a me piacciono i carciofini. Bravissima. Ognuno mette quel che vuole. Una delle mie pizze preferite è proprio cotto e olive. Anche a me. Cotto olive e cotto e carciofi. Esatto. Un filo d'olio e poi l'andiamo a tagliare e ce la mangiamo. Con le forbici, rigorosamente. La pizza di casa tagliatela con le forbici, così come sta facendo Fulvio, perché guardate, è una meraviglia. È una roba goduriosa al massimo. Te ne taglio un pezzo, così la... Ma guarda che sacrificio qua. Assaggiare. Io comunque passo dal croissant alla pizza e poi tornerei indietro. Cioè, tanto cosa cambia? È la bellezza della vita. Voilà. Guardate che meraviglia. Scusate. Ma vieni via. Certo.